domenica 30 dicembre 2018 siamo ancora agli sgoccioli siamo agli sgoccioli di questo anno davvero eccezionale che è appena passato e qui con lo sfondo del mar Ligure del mio mare qui da imperia tra poco invece avremo un altro sfondo quello dell'oceano peruviano da dove partirà la quarantunesima edizione della Dakar 2019 che si preannuncia già davvero tosta assai tosta per tutti i concorrenti che sono già schierati ci occuperemo dei sette piloti italiani la nostra pattuglia azzurra i magnifici sette come giallo ribattezzati e come poi vedrete anche scritto su Endurista Magazine nel numero 57 di marzo e aprile che poi uscirà e allora con Franco Iannone a seguire questa Dakar che ci attende siamo ormai agli ultimi preparativi o ringrazio anche il mio operatore Giorgio Bruna che cura queste immagini e che poi riproporremo anche dal Sud America allora non mancate seguitemi seguite questa Dakar che sta per cominciare la Dakar 2019 41esima edizione I cross my fingers l'Oceano l'Oceano l'Oceano